Ben ritrovati cari amici in questo nuovissimo video, oggi andremo a spacchettare finalmente la non espansione di One Piece Card Game quella che celebra il secondo anniversario del gioco, sono passati ben due anni dall'inizio di questa fantastica avventura e questa volta finalmente abbiamo la nostra non espansione dedicata ai quattro imperatori con carte davvero incredibili avremo un sacco di alternative stupende come sempre, Secret, in più le nostre carissime carte manga ma non sarà soltanto una e non saranno nemmeno tre come è successo nel primo anniversario ma saranno ben quattro carte manga in più ci sarà la sorpresa ovvero la carta Gold Manga che avrà come personaggio niente poco di meno che il re dei pirati ovvero Gold di Roger, ragazzi espansione davvero incredibile, in più ci saranno anche le carte Wanted che abbiamo visto già in se non sbaglio in OP3 ma con delle versioni un po' che a me personalmente non piacevano e oltre a quelle lì ci saranno anche le carte Mosaico che questa volta non saranno tanto simile alle vecchie Mosaico che siamo abituati a conoscere ma avranno uno stile un po' leggermente diverso quindi non le chiamerei troppo Mosaico ma vabbè troveremo un nome anche per queste carte bene ragazzi direi quindi di iniziare subito a spacchettare la nona espansione di One Piece Card Game ok eccoci qui con il nostro boxettino come vedete tutto nero a differenza di quello del primo anniversario che era completamente bianco qua in primo piano abbiamo i quattro imperatori, personaggi che avremo in versione manga in questa espansione come ho detto all'inizio ci saranno quattro versioni, quattro alternative manga in più quella Gold diciamo si abbina perfettamente al personaggio che avrà il re dei pirati Gold di Roger quindi sarà una Gold manga, prima volta che vediamo in questo gioco e penso che non ne vedremo più per un bel po' di tempo perché dovrebbe da quel che so essere un'esclusiva per questo set quello che celebra appunto il secondo anniversario durante il primo anniversario abbiamo visto la carta firmata esclusivamente e illustrata esclusivamente dal maestro Eiichiro Oda questa volta invece non ci sarà più la carta illustrata ma il personaggio il re dei pirati Gold di Roger molto bene, molto bene, comunque non si chiama Gold di Roger ma Gold di Roger per tutti i mega fan di One Piece che sicuramente poi mi correggeranno nei commenti allora abbiamo queste carte che comunque sono molto belle, le abbiamo già aperte in live abbiamo aperto un case intero, ne apriremo ancora altri due e appunto commentavamo che le carte di questa espansione sono molto belle e hanno uno stile di disegno a parer mio molto tamarro non so, lo so, si per me lo definisco così però si è un po' troppo accattivante lo stile di disegni e a me sembra come dire, si, tamarro diciamo no? non c'è nulla di kawaii, non c'è nulla di... vabbè queste fan cagare come sempre però poi adesso se mi capita qualcuna tipo questa vedete trafalgarlo lo vedo con questo stile molto molto accattivante per me è uno stile abbastanza tamarro e la maggior parte delle carte saranno fatte tutte con questo stile qua poi ci sono carte come questa che sembrano disegnate da Akiregawa ma il personaggio artista è Yakan Sarena non so se ho detto bene molto bella e dovrebbe essere lo stesso che ha illustrato la carta di barba bianca è barba nera probabilmente della vecchia espansione o P8 non ricordo molto bene comunque sì carte comunque molto molto belle vedete lo stile? è molto molto simile nulla di... molto... si abbina perfettamente si abbinano perfettamente tra di loro questa bellissima Gekomoria carta evento c'è una carta evento non so se è questa o un'altra che l'hanno stampata senza la scritta trigger per errore e poi oh abbiamo la secret la secret di Monkey di Luffy una carta che non apprezzo tantissimo devo essere sincero perché l'illustrazione mi fa non mi piace non mi piace per nulla e mi sembra molto lo stile delle carte di Dragon Ball non so se avete presente infatti ha pure l'aura dorata e la posa troppo statica a parer mio quindi no non mi piace per niente questa secret ma va bene primo pull primo pull del box speriamo che non sia l'ultimo sappiamo tutti che in un box giapponese si può trovare un massimo di due pull non più di due purtroppo non è come i box inglesi quindi vediamo se la fortuna sarà da nostra parte oppure se semplicemente avremo trovato solo questo povero Luffy secret che tra l'altro in live mi avevano pure regalato il nostro picco il picco 96 non mi ricordo uno dei ragazzi del gruppo che aveva preso il box l'aveva trovato e essendo che quella carta ce l'aveva già ha deciso di regalarla a me molto gentile e vedete stile abbastanza non so come definirlo io lo definirei stamarro però comunque molto simile no beh questo non c'entra nulla Nami e Baggy bellissimo questo evento quindi ragazzuoli speriamo di non fermarci qui l'espansione come avete detto è un'espansione da non perdere io vi consiglio veramente tantissimo di non farvi sfuggire questa espansione che probabilmente tra qualche mese farà la stessa fine che ha fatto OP5 e anche se onestamente spero proprio di no spero che non si alzi di prezzo la versione inglese deve ancora uscire quindi anche lì se riuscite a preordinarla a prezzo di mercato approfittatene e fatelo vi ricordo comunque su necoponstore potete trovarlo a uno dei prezzi più bassi del web inserendo il codice sconto KIKO5 avrete pure uno sconto del 5% quindi ragazzi approfittatene eccolo qua la SR Beckman mi sembra che si chiami non mi ricordo più comunque carina molto bella andiamo a mettere via prima SR del box solitamente se ne trovano tre o quattro dipende poi dal pool adesso non ricordo forse si trova la secret si trovano soltanto tre SR non ricordo molto bene le carte leader come sempre sappiamo che sono bellissime quelle di questa espansione perché hanno tatua vediamo le SR del personaggio videogioco hanno l'illustrazione manga quindi hanno il faccione il faccione manga che è stupendo almeno per chi è amante del manga sono delle carte davvero uniche da avere in collezione e non le fanno sempre le hanno fatte in poche espansioni per la precisione forse in quattro espansioni prima seconda quinta anche in PRB solo che in PRB c'era solamente un leader ovvero quello di Sanji molto bello questo Sabo in live abbiamo trovato Buggy che è veramente stupendo ragazzi è troppo bella quella carta è fatta veramente troppo bene e io io ve le consiglio le consiglio davvero tantissimo io sicuramente le prenderò tutte anche perché poi a dicembre mi arriverà un case da spacchettare e spero tanto di trovarne vabbè sicuramente ne troverò quattro perché un case hang ne garantisce quattro quindi spero di trovare almeno cioè spero che l'unica carta che non troverò l'unica carta leader che non troverò non sia Buggy se no vabbè mi toccherà comprarla e sappiamo che le versioni hang costano veramente tanto 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 ok personaggio della ciurma di Barrova Bianca molto bene come vedete le illustrazioni sono molto simili tra di loro non c'è non ce n'è una che si differenzia come capita a volte nelle altre espansioni che magari uno ha lo stile un po' diverso beh questa comunque si ha uno stile un po' strano che sembra così fatta al computer però vabbè non è poi così diversa dalle altre comunque molto carina vedete no disegni molto simili questa è bella ah di questa se non sbaglio c'è c'è un crocodile c'è un crocodile di questa espansione che è veramente molto figo ma non so se sia lo stesso illustratore di questa questa niente e doppi molto bello questo doppi rara allora in live abbiamo trovato veramente tantissime carte abbiamo trovato gold di roger versione alternative ne abbiamo trovati per la presidione due purtroppo non siamo riusciti a trovare la versione manga di roger chissà se riusciamo a trovarlo negli altri due unboxing uno lo faremo stasera e quindi se vedrete il video probabilmente sarà già uscito il giorno prima la live e l'altro lo farò il mercoledì mercoledì 16 18 se non sbaglio 18 settembre poi poi ne farò un altro però la data è ancora da decidere eh sì questa espansione è da spacchettare bisogna approfittarsene ragazzi bisogna approfittare di questa espansione perché non uscirà secondo me un set come questo ancora per parecchio tempo quindi approfittiamone Trafalgar Law bellissimo probabilmente sì nel terzo anniversario sì faranno qualcosa però non è che ad ogni anniversario riescano o decideranno di metterci delle bombe al suo interno secondo me inizieranno pian piano a scendere e aspetteranno poi di mettere le bombe al quinto anniversario mi sembra la cosa più giusta no se no poi quando arriverà il momento del quinto anniversario non sapranno più cosa mettere abbiamo il don alternative come vedete il don non sta più sotto come ultima carta ma penultima molto bello questo qua di shanks carino e anche se onestamente preferisco quelli del double pack gli opiotto che sono veramente stupendi ragazzoli hanno la texture e sono veramente molto belli tra l'altro ne ho uno da aprire che mi ha mandato l'ecopon ma non ho avuto tempo di aprire questi giorni appena riesco faccio farò un reel e vediamo speriamo di trovare qualcosina anche lì ho visto che c'è parecchia gente che è riuscita a pullare belle cose molto bella questa se non sbaglio no non dovrebbe essere questa con la scritta col trigger che manca che manca boh non so comunque abbiamo aperto parecchie bustine abbiamo trovato due SR la secret speriamo di trovare vabbè se trovassimo la la wanted sarebbe veramente epico perché le wanted di questo set sono stupende ragazzi veramente hanno proprio lo stile manga sono praticamente prese dal manga delle tavole del manga appunto con i colori del poster appunto del wanted ed è veramente una figata quelle che hanno fatto in OP3 non sono un granché perché l'immagine è un frame dell'anime è quello veramente rovina un po' lo stile di quella carta lì invece queste qua sono fatte davvero da dio sono molto molto belle molto belle da avere in collezione ma il bello è che sono tutte e quattro fatte bene cioè non è che ce ne sia solo una sai no una o due no tutte e quattro sono veramente stupende sarebbe un bel pezzo da avere in collezione il quattro per cioè in quattro per tutte e quattro sarebbero un bel pezzo da avere in collezione intanto qua abbiamo Franky SR molto bene la nostra forse ultima SR abbiamo tre si tre SR vediamo in teoria con la secret se ne dovrebbero trovare solo tre speriamo di trovare ancora un pool così ragazzuoli siamo tutti più contenti allora eh purtroppo questo box non faceva parte di un case sigillato l'ho preso in più insieme agli altri case che sto aprendo in live quindi presumo che roba grosza non riuscirò a trovarne però dai non è detta l'ultima proviamo fino alla fine Uta bellissima questa Uta rara ultime due bustine vediamo della fortuna della nostra l'ho aperto un po' in ritardo questo box perché come ho detto prima ho fatto parecchie live ho fatto sia di OP9 live unboxing sia di OP9 che di OP8 e quindi non ho avuto per niente per nulla tempo di mettermi a registrare molto bello questo crocco con il buggy stupenda l'avevamo già vista anche durante la diretta e quindi non sono riuscito proprio ad aprirlo prima anche se ce l'avevo ce l'avevo lì praticamente dietro nel mobiletto pronto per essere sbuzzato allora ragazzi ultima bustina vediamo se in questa bustina riusciamo a trovare la carta l'ultima carta ok niente niente leader vediamo allora Marco carta evento id evento forse dovrebbe essere l'ultima e niente carta evento box bruttino molto molto brutto ci spiace vabbè non potiamo purtroppo essendo che veniva da un box non veniva da un case ero molto sicuro che non avrei trovato roba interessante però non mi aspettavo di trovare proprio questo luffy che è una delle carte che preferisco di meno va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se avete spacchettato anche voi questa espansione se la volete spacchettare più avanti ragazzi vi consiglio di non aspettare troppo tempo comunque so che tra un po' arriverà un'altra wave di questo prodotto quindi i prezzi non si alzeranno ancora così tanto è un'espansione da spacchettare è un'espansione da collezionare le carte sono tutte bellissime invito ad andarvi a vedere la live in cui spacchetterò altri due case di OP9 ci saranno veramente lì ci saranno tantissime carte perché comunque in un case si trova davvero il mondo e speriamo di trovare anche le carte manga per non dire vabbè la gold manga che lì sarebbe veramente il colmo beh ragazzi io vi ringrazio come sempre di essere rimasti sintonizzati fino alla fine per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo e ci vediamo